Tra poche ore si riunisce il Consiglio Comunale a Palazzo San Giacomo per discutere del Salva Napoli, la norma approvata nella finanziaria dal Governo che dovrà aiutare il Comune a evitare il crack finanziario. Non convince il leader dell'opposizione Catello Maresca, che ha convocato una conferenza stampa per illustrare le proposte che porterà in aula nel corso della discussione con un preciso ordine del giorno. Guardate, sono un po' di soldi perché poi in 21 anni, spalmarli in 21 anni sono quasi impercettibili perché noi partiamo da un debito stratosferico di quasi 5 miliardi, pensare di poterlo colmare con poche centinaia di milioni all'anno sarebbe addirittura un'ipocrisia. Per il PM il Salva Napoli rischia di trasformarsi in una presa in giro per i cittadini, per i quali si prospetta l'aumento della tassa addizionale comunale IRPEF. Siamo assolutamente contrari perché è fin troppo semplice far passare un grande successo, cioè quello dei soldi che arriveranno per Napoli facendoli pagare ai napoletani. Questa è un'assurdità, è un non senso, sarebbe addirittura una presa in giro per i cittadini. E sui primi 100 giorni di Manfredi, Maresca è molto critico. Proposte, progetti, programmi, credo che i cittadini che noi incontriamo quotidianamente anche sui nostri territori, purtroppo non hanno ancora visto nulla. Non c'è stato il cambio di passo, i famosi 100 giorni, in cui voi giornalisti giustamente ancorate un segnale, sono passati così.